Buongiorno a tutti 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 Buongiorno Buongiorno a tutti 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 Buongiorno Buongiorno a tutti 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 Buongiorno 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 a tutti questo il corso esatto a evo che ciò che vi poterà ciò che avete poter di poterà ciò che il corso è avuto ciò che non ciò si sodano ciò che abbiamo una colostra bene abbiamo vedo il corso il corso la corso la corso la corso se in questo corso si sa che ci sono con altra più più ho fatto invece a la la questa è quello il lo l'arte ha lo so la questo questo è un po' di fare. C'è un po' di fare il video. la colore, tu guardi. E poi il l'initore abbia. Quindi, mi fa, non mi fa fare. Perché, questa è la colore, mi ha detto che ho fatto, sono molto molto piaciato. Il formato dal l'initore, se add a la la e questo il 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 questo è il suo il passaggio del passaggio gli altri passaggi io spiegli questo è il passaggio questo che avendo ha il passaggio questo passaggio se non ci si quando ci sono ci si questo è il modo di questo modo se mi chiede così lo voglio questo penso che ho un line da darmi qualche effetto da darmi il line lo voglio la questa 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 la cosa la questa in cosa si 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 come vi faccio questo che ciò che ciò che sta questo è il line control shift questo è il line ora 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 allora sulla il il ha il il è il sono 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 qui si sono qui si qui 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 si questo è il nostro corso di questo abbiamo fatto e la stessa ora abbiamo un tutorial e qui si abbiamo qui 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 abbiamo qui che faile open e fd c 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 questo è il risultato ora abbiamo già qui abbiamo già già export qui abbiamo già di fare se 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 si qui qui si si che andiamo per l'escrizione ora aspettiamo laissione se siente io ho beh inglese li pi seguimos si con e alla affez Grazie per la visione!